Benni, io andrei al sugo del problema io allora andrei allo sugo del problema raccontaci di sugo questo giocatore, tale sugo Imahira spero di averlo pronunciato bene perfetto secondo me di sicuro a quel giocatore è capitato un fatto abbastanza inusuale nel senso che in un torneo del WGC quindi World Golf Championship una delle gare più prestigiose del mondo al terzo giro ha visto male gli orari di partenza si è presentato sullo score con quasi un'ora di ritardo si è presentato sullo score questa la teniamo, io non te la taglio perché è bellissima si è presentato sullo score ed era a sulti di partenza anche però seduto sullo score però con quasi un'ora di ritardo vabbè comodo quindi quando ha tirato fuori lo score da sotto il sedere ha visto che l'orario era sbagliato e lui era stato un'ora seduto sullo score e c'aveva il fuso orario in albergo apposta detto questo, chiaramente è stato squalificato per la gara ma secondo le regole del WGC che dicono che lì si può andare a premio si è portato a casa il Danello stesso 43.000 dollari solo per essere arrivato in questo caso in ultima posizione e aver dormito molto di più tra l'altro ha dormito di più ha giocato solo due giorni su quattro 43.000 dollari butta via tanta roba facciamo che noi WGC se le barche non ci invitano a farlo comunque a questo punto mi viene da chiederti sei mai stato squalificato? ebbene sì anch'io per una situazione similare nel senso non perché avevo visto male l'orario di partenza ma era una gara a Bologna al Golf Le Fonti io alloggiavo a casa dei miei parenti dall'altra parte di Bologna e la tangenzia di Bologna ricordo un pochino quelle classiche tangenziali milanesi quando l'orario è sbagliato non la si attraversa molto facilmente quindi in causa traffico sono arrivato in ritardo sulla tabella di marcia quindi qualifico questa gara ufficiale effetto grande raccordo anulare per quelli di Roma ognuno ha le sue insomma tangenziale di Milano tangenziale di Torino Bologna ma non vogliamo citare come è che è? il Ronco Bilaccio e il Barberino del Brucello ma lì c'è vento quindi palla bassa e via andate esatto detto questo tu invece sei mai stato squalificato? ebbene anch'io sono stato squalificato una volta non per ritardo ho sempre avuto un orologio che funzionava bene e sono sempre arrivato molto presto perché avevo paura di arrivare in ritardo a me è capitato invece prima che cambiasse la regola perché adesso è cambiata ho invertito le firme tra giocatore e marcatore ai tempi c'era ancora la regola per cui dovevi marcare dove c'era la scritta riportata giocatore il mio marcatore sbagliando aveva marcato io ero piccolino avevo 14 anni avevo fatto un bel giro tra l'altro mi ero abbassato mi ricordo questa cosa perché poi piangevo perché io volevo entrare a fare le gare fighe per me era importante abbassarmi e quindi piangevo perché dicevo ma no io potevo abbassarmi non mi frega niente della coppa io però voglio abbassarmi comunque avevo fatto un bel giro lui aveva firmato sul giocatore e quindi io stupidamente senza guardare ho visto dove c'era il buco ho marcato sul marcatore quindi è considerato uno score bello con due firme tutte le buche al posto giusto squalifica e infatti poi per fortuna questa regola è cambiata ha deciso di cambiare questa cosa alla fine in quel momento c'era è stato un errore mio ho imparato a riguardare bene lo score da lì infatti ce ne sono purtroppo tanti che hanno subito la squalifica per score quindi errori sullo score da una buca in meno in questo citiamo il nostro amico Marione Contessa che ci raccontava questo aneddoto ciao Marione piuttosto che due buche invertite anche quello se una buca risulta il risultato è lo stesso ma hai sbagliato a scrivere la buca quindi in almeno una buca il risultato inferiore e quindi molti sono cascati in questo treno soprattutto quando si ha poca esperienza sulla gestione degli score le prime gare quando arriva la 18 penso che sia finita invece la gara finisce quando ho consegnato lo score da lì non posso più anzi la gara finisce al bambino davanti a una birra perché se sbaglio lì potremo disqualificare effettivamente comunque raccontateci sotto nei commenti se siete mai stati squalificati o se pensate che ci sono delle regole che probabilmente potrebbero essere cambiate addolcite visto che tra l'altro sembra che ci siano in revisione molte regole per rendere questo gioco un pochino più veloce un po' più friendly user friendly user friendly e ci sta a Grazie a tutti